Ecco il momento tanto atteso ragazzi, finalmente in questo dodicesimo e ultimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat X, visto che siamo alla sala dei Jinsei dopo aver tolto di mezzo Devora, Cassie Cage deve sconfiggere Shinnok, ma questa volta Shinnok è cambiato parecchio, è diventato corrotto, ma a vederlo corrotto non vi fa pensare a Dark Khan di M.A.P.A.O.D.C.? Ma a vederlo così in versione corrotto va affrontato parecchie volte in versione arcade, poi è la cosa che mi dà fastidio e che fa in continuazione il fuoco, anche quando siamo lontani. Se riusciremo a sconfiggerelo avremo finito per sempre questa splendida in modalità storia di Mortal Kombat X. Bisogna fare attenzione perchè quando Shinnok è corrotto è imbattibile, non lo batti. Dai voglio cercare di vincere. Fare così in due round non va bene. No dai, perché? Non posso perdere. Devo vincere per forza. Oh, vittoria finalmente! E la modalità storia di Mortal Kombat X è conclusa per sempre. Arrivederci a tutti, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Nella prossima video recensione vi farò vedere il finale di questa storia. Grazie a tutti.